Il futuro del mondo del lavoro è incerto e richiede tantissima flessibilità, ma soprattutto richiede la capacità di tornare a essere interdisciplinari. Negli ultimi secoli abbiamo diviso materie che prima venivano trattate insieme, mentre oggi chi si occupa di ingegneria, chi si occupa di robotica o di biotecnologie non può prescindere da tutti quegli aspetti che riguardano gli impatti nella nostra società di queste materie. Questo significa anche che tutti noi abbiamo la possibilità e anche un po' la responsabilità di interessarci a 360 gradi di materie umanistiche. Oggi abbiamo parlato soprattutto di questo con un tavolo misto tra tecnici e umanisti per cercare di capire come da un lato portare la tecnica all'interno delle materie umanistiche e viceversa e quali possono essere i vantaggi in termini di soluzione anche dei grandi problemi e delle grandi sfide che abbiamo di fronte sia per noi individualmente anche come umanità e collettività.